eccoci qui col mistero del fungo vediamo mangia ovolo malefico e usciamo pazzi e perdiamo i sensi osserva i segni accendi bracciati giusti per parcare la porta dobbiamo sono quanti precisi sono cinque precedi ragazzi dobbiamo osservare i segni e che se ne ci stanno qua una porta alla cesta due porte e tre porte quindi l'ordine non penso che cambia due porte quella è rotta c'era un'altra con la parte dietro era questa tre porte e adesso possiamo varcare la porta il focolare è un dono per il viaggiatore stanco che giunge dal freddo con gambe ghiacciate in cerca di cibo e vestiti e questo era il mistero dell'ovolo malefico grazie a tutti grazie a tutti